Creazione di contenuti social. Offriamo pacchetti di 10 spot social realizzati per diverse piattaforme. Video spiritosi e divertenti che catturano momenti esilaranti e intrattengono il pubblico. Video istituzionali di grande impatto che mettono in luce la missione e i valori del nostro brand, catturando l'attenzione degli utenti. Video esplicativi che illustrano chiaramente il funzionamento e i vantaggi dei nostri prodotti, educando e coinvolgendo gli spettatori. Tutti gli spot includeranno musiche royalty free e potranno essere arricchiti con jingle personalizzati, creati tramite intelligenza artificiale, per un tocco unico e memorabile. Inoltre, grazie all'AI, sarà possibile generare uno speaker virtuale per rafforzare i concetti chiave e facilitare la comprensione. Utilizzeremo tecniche innovative come lo stop motion per raccontare piccole storie con il prodotto, creando un percorso narrativo del brand, mentre scenografie, tematiche e inserimenti 3D renderanno il brand attuale e coinvolgente. Ogni progetto inizierà con la creazione di storyboard dettagliati, per garantire idee chiare e comprensibili fin dall'inizio. L'integrazione di intelligenza artificiale e sistemi tradizionali permette di contenere i costi senza compromettere la qualità, assicurando risultati professionali e accattivanti.